Il Paradisi delle Signore Nove, ipotesi puntate, Tancredi si toglie la vita, torna Agnese. Dopo la denuncia del marito, Matilde è in viaggio con Vittorio, ma la nuova stagione e i 160 episodi inediti sono di nuovo nel limbo a settembre. E non è da escludere la possibilità di un ritorno della signora Amato. Tra queste rientra la delicatissima situazione di Matilde, che lasciò Milano con Vittorio per evitare i sospetti di infedeltà di Tancredi. Non possiamo escludere che Santerasmo abbia compiuto il passo estremo perché era convinto di non avere più speranza per la donna che amava e che lei non sarebbe mai più stata sua. Attualmente è solo e negli ultimi mesi ha vissuto molte delusioni, anche sentimentali. E poi c'è Armando, un personaggio che tace. Dopo che Agnese ha deciso di restare a Londra, in questa stagione si è limitato a recitare un ruolo secondario. Sostenendo i suoi migliori amici, in particolare Marcello, che considera come un figlio. Se Agnese dovesse ritornare, sarà interessante vedere come reagirà e come cambieranno le dinamiche del loro rapporto. Tancredi perde tutto e viene consumato della disperazione. Tancredi ha vissuto mesi difficili, se non tragici. Matilde scopre di essere stata lei la responsabile dell'incendio della fabbrica di mobili. Le bugie che non riusciva a perdonare l'hanno avvicinata a Vittorio e alla fine l'hanno portata ad innamorarsi di lui. Tuttavia, anche dopo il ricovero in ospedale a causa di un incidente, lei ha continuato ad essere lì per lui. Come se non bastasse, Tancredi avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico al piede per poter camminare di nuovo. Ma i postumi dell'incidente hanno vanificato quella speranza. Poi ha deciso di riprendersi Matilde e ha dovuto affrontare la realtà e trovare sua moglie dalla parte di Vittorio. Di certo non avrebbe potuto immaginare se stessa e Conti lasciare Milano. E qui ha giocato la sua ultima carta, l'infedeltà. C'è molta disperazione, forse troppa. Non è impossibile che nella stagione del Paradisi delle Signore Nove, Tancredi possa togliersi la vita come ultimo atto estremo, o almeno tentare di farlo. Armando e Agnese, una storia d'amore che non finisce mai un personaggio a cui gli spettatori tengono molto e Agnese. Nessuno si aspettava che quando avrebbe deciso di vivere la sua storia d'amore con Armand, avrebbe deciso anche di restare a Londra. Ma il loro amore è così forte che non credo finirà mai così. Non è quindi da escludere che Agnese ritorni nella nuova stagione della soap di Rai Uno e colleghi Armando con altre dinamiche. Vediamo anche quale sarà il destino di Irene dopo che Alfredo la lascia perché accetta di trascorrere l'estate con Crespi. Resta invece in un vicolo cieco la storia d'amore di Umberto lasciata da Flora, che venne a conoscenza del suo coinvolgimento nell'incidente Ofer. Trasmissione dell'Eddie's Paradise 9 Una nuova stagione è molto certa. Paradiso tornerà nuovamente su Rai Uno intorno alle 16 di lunedì 9 settembre, ma gli orari potrebbero subire modifiche. Il periodo coperto dagli episodi va dal 1965 al 1966. Per quanto riguarda il cast, Alessandro Tersini non c'è più. Invece hanno partecipato Umberto, Adelaide, Flora e Matilde.v Grazie a tutti. Grazie a tutti.